Una proposta provocatoria ai pedofili accertati e condannati, una bella purga? Ma ai pedofili farei molto di più, la purga è poco, quello che penso è che il carcere non serve assolutamente per queste persone che reiterano il reato, bisogna assolutamente intervenire farmacologicamente, ci sono il blocco degli ormoni perché sono persone che hanno una libido alterata, questo bisogna fare, noi che li metti in carcere che si comportano benissimo, escono e lo rifanno. Sì perché poi il pedofilo è furbo, intelligente di solito socialmente. Io su questo, sulla pedofilia, infatti faremo anche un'audizione proprio in commissione. E quindi forse una legge un domani? Ma la legge c'è, ma se tu ove mai vanno in galera perché poi non scontano mai la pena, subito escono, non serve. Su internet la pubblicazione di nomi e cognomi dei pedofili è d'accordo? Beh in America c'è la pubblicazione di nomi e cognomi per le sentenze passate in giudicato, addirittura io che sono in un quartiere devo sapere se nel mio quartiere c'è una persona che è stata condannata in sentenza definitiva per reati di violenza sessuale o di natura sessuale, io lo devo sapere, sono favorevole. Quando in teoria...